Ultime notizie flash, edizione straordinaria. La notizia è appena stata battuta dalle principali agenzie e la nostra redazione ne ha subito scovato l'inedito video. Ecco a voi le immagini. Per quello che è uscito a prendermi le mie responsabilità, a chiedere scusa a tutta la città di Palermo, a chiedere scusa alla mia famiglia, che mi ha fatto crescere in un contesto di valori, di rispetto. Tutti i momenti che ho passato qua, tutti i gol che ho fatto, uno per uno. Va bene signori, se ci consentite vorremmo andare a un impegno con la famiglia, oggi è anche il tuo compleanno, grazie. Io vorremmo dire l'ultima cosa, ho sentito Gattuso qualche giorno fa, io lo ritengo una persona eccezionale, lo ritengo un mio amico, lo conosco da dieci anni. Giocavamo i nazionali e gli auguro che possa portare il Palermo di nuovo in Serie A, dove questa città merita vita. Grazie a tutti. Grazie.